ma buongiorno buongiorno sto cazzo guarda subito come guida eh adesso andremo a fare uno scherzo da filiberto eh sei pronto? beh sei carico? oh sei carico? fa la faccia carica carichissimo come si sente a 94 anni a guida così alla grande? ma scherzi? eh come si sente? benissimo tipo come si sente? benissimo tipo come? come un coglione è incredibile che a 94 anni guida come un io veramente la cintura non la mette sto scemo perché mettete sempre la cintura lui tanto se no mi tocca di tigace forte ma adesso io do un cazzotto sulla testa la cintura bisogna eccolo venga venga ma chi è? ma chi è? ma non tanto favorisca favorisca patente e libretto favorisca testa di cazzo testa di cazzo azzo 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 vieni qua trasmetti questa bomboletta guarda 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 io devo dire che ci ho mortato oh no? dopo io devo dire che si è comportato bene Ma senti che bidone, ma senti che bidone, fa un rumoraccio, senti come gira sto motore, senti che fa buffa, no, ma si scappa al prete, dopo, dopo, come, che vuole morire? Secondo te, poi dovrei dire che si è comportato bene, ma non lo dirò mai, arriva in piazza, con la macra, fai disperto, fai lo sbruffoncello, guarda che ha combinato, si è comportato malissimo, guarda che te sta a fare Filiberto, o no? Nonno, o no? Nonno, 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 finisci con questa bomboletta, fermati, no, 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 uccide!